Se hai bisogno di soldi, una giunta dell'Axo o completi modati non esitare a contattarmi Iscriviti a tutti i miei gruppi Telegram, NextGen e AllGen ragazzi Iscrivetevi a tutti i miei social e se siete da PS in descrizione trovate i gruppi anche per Playstation E adesso al nuovo video Bentornati raga, qua è Savix che vi parla Allora ragazzi, oggi non vi porto niente Vi voglio solo avvisare che per tutto il periodo estivo Visto che GTA non ha aggiornato ancora niente Non si sa niente sull'aggiornamento che ci sarà il 19 Io prevedo una bufalazza Disattivo gli abbonamenti ragazzi per tutto il periodo estivo Sperando che verso settembre si inizi a smuovere qualcosa E a dicembre magari con l'uscita del grosso DLC Che tutti stiamo aspettando Magari riusciamo a attivare gli abbonamenti E portare dei contenuti un po' più particolari per determinati di voi Mi dispiace per chi si è già abbonato E che magari voleva continuare Ma preferisco così Per adesso questa è la mia decisione ragazzi Come potete vedere ragazzi Nell'ultimo periodo Le visualizzazioni sono più basse A parte qualche glitch che ancora qualche visualizzazione la fa Ma sono basse Perché se andiamo a vedere i vecchi video ragazzi Qua sono tutte 800, 1600, 1700, 2000 Cioè mi girano un po' i coglioni Anche per voi Portare meno roba ragazzi Ma anche su canali più grossi Come quello di GTA TV Raga Fa 8000 Prima ne faceva 15, 20 E 30, 60 Cioè ragazzi È una cosa esagerata Purtroppo è così Il gioco ci sta portando A far questo È un peccato Ma questo io ho deciso E niente raga Io vi lascio E sbada bam Al prossimo video Buona visione Grazie a tutti